Buon pomeriggio. Oggi vi leggo un brano dal saggio sulla lettura di Marcel Proust. Qualche volta a casa, un bel pezzo dopo cena, le ultime ore della sera davano anch'esse ricetto alla mia lettura, ma soltanto i giorni in cui ero giunto agli ultimi capitoli di un libro e non mi restava molto da leggere per arrivare alla fine. Allora, rischiando il castigo che mi sarebbe stato inflitto se fossi stato scoperto e l'insonnia che terminato il libro sarebbe forse durata l'intera notte, appena i miei genitori si erano coricati, riaccendevo la candela. Poi l'ultima pagina era letta. Il libro era terminato. Bisognava fermare la corsa sfrenata degli occhi e della voce che seguiva senza rumore, arrestandosi solo per ripigliar fiato in un sospiro profondo. Allora, per dar modo ai tumulti da troppo tempo scatenatisi in me di placarsi, mi alzavo, mi mettevo a camminare lungo il mio letto, con gli occhi ancora fissi su qualche punto che si sarebbe vanamente cercato nella camera o fuori, perché era situato a una distanza puramente ideale. Dunque, quel libro era soltanto questo? Quegli esseri ai quali avevo dedicato maggiore attenzione e affetto che non alle persone del mondo reale, senza osare di confessarmi sino a qual punto li amavo, e quando i miei congiunti mi trovavano in atto di leggere e avevano l'aria di sorridere della mia emozione, affrettandomi a chiudere il libro con un'indifferenza simulata o una noia finta? Quegli esseri per i quali avevo ansimato o singhiozzato? Non avrei saputo più nulla di loro? Avrei tanto voluto che il libro continuasse e, se questo fosse impossibile, ottenere almeno altri ragguagli su tutti quei personaggi, sapere qualcosa intorno alla loro vita, dedicare la nostra a cose che non fossero del tutto estrane all'amore che essi mi avevano ispirato e il cui oggetto mi era improvvisamente venuto meno. Avrei voluto non aver amato in vano per un'ora degli esseri che il giorno dopo non sarebbero stati che un nome su una pagina dimenticata. Grazie per il tè.